Ci siamo, benvenuti a tutti, devo riuscire a fare una cosa impressa, impressa, veloce, veloce per collegarmi, per andare in diretta, che mi dice solo io, invece adesso lo frego, gli dico tutti, perché vi voglio tutti qua, vi voglio tutti qua pronti a parlare di una cosa interessantissima. Allora, in quanti vorrebbero rivedere il proprio naso, dire non mi piace proprio la mia punta del naso, qualcosa che vorrei correggere, in quanti sono? Tantissimi. Bene, allora sapete che cosa facciamo questa sera? Ne parliamo con un mio caro amico, lui si chiama Raul Novelli. Ciao Raul! Ma ciao Lisa, come stai? Ma io sto molto bene, guarda, io e la tecnologia siamo sempre in continua lotta, perché faccio sempre una gran fatica, ma vedo che ci siamo, quindi... Non sei l'unica, non sei l'unica. No, ma io guarda, io faccio paura Raul, perché veramente ormai dopo tante tante dirette dovrei riuscire almeno a connettermi, invece faccio una gran fatica senza la mia regia mobile. Però gioia si è data latitante, quindi nulla, facciamo senza. Però questa sera trattiamo un argomento che mi piace tantissimo. Allora, intanto ve lo presento, lo conoscete, è un mio carissimo amico, ma soprattutto è un grande, grande professionista. Dottor Raul Novelli, chirurgo plastico, sei specializzato in bellezza tu, giusto? Meno male, le donne sono belle, quindi in bellezza. Ma anche gli uomini ora, quindi... Bravo, infatti, proprio di questo poi volevo proprio parlare, perché secondo me forse questo è un aspetto che tocca molto molto da vicino anche l'uomo, soprattutto quando si parla di naso, quando si parla di profilo, quando uno non si piace. Comunque, dottor Novelli, insomma, andiamo verso un altro periodo difficile, molto complicato per via del Covid, lo abbiamo visto. Tu però mi dicevi che stai lavorando bene, in tranquillità, in sicurezza. Cosa devo dirti? Questa storia di questo Covid sta creando dei grandi concedi micasini. La verità è che secondo me, a me sembrano molti molto disorientati. Però, insomma, speriamo in bene, dai, speriamo di pasarlo, speriamo che tutto vada bene, indipendentemente dalle cose sbagliate che facciamo. Teniamo duro, andiamo avanti. No, no, quello sicuramente, però col fatto che comunque mi piace anche con te affrontare dei temi, oggi parliamo di bellezza. Insomma, anche in un momento dove, ok, l'attenzione, tutto, però ci tenevo a dire massima attenzione. Quindi qualsiasi intervento, comunque, anche in questo caso, uno vada a sottoporsi, c'è sempre, tu mi dicevi addirittura, se per fare un intervento oggi devono fare prima il tampone, esami del sangue, è sempre tutto certificato. Giusto per farti ridere, far ridere tutti, ridere, piangere. In realtà in questo momento c'è molta, molta illogicità in molte cose. Noi chirurghi cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato i test rapidi del tampone, proprio perché anche il giorno prima o l'attimo prima di fare anche un piccolo intervento, magari lo possiamo controllare. Ecco, le novità di oggi o del 23, di due giorni fa, è che quasi tutte le regioni ne accettano, la regione Lombardia no, non si capisce più perché. No, dai, che peccato, non ti stavo per dire, che bello. Invece, boh, la verità è che nelle regioni vanno ognuno in ordine sparso e anche per noi diventa estremamente difficile, non solo per i ristoratori, cioè per tutti capire qual è la cosa giusta, perché non c'è una logica, c'è troppa gente di mezzo e questo mi rendo conto che non è facile, quindi non è un'accusa, ma è sicuramente un momento di grande confusione. No, 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 ma qui nessuno accusa nessuno, qui ognuno sta cercando di fare del proprio meglio, però insomma, ecco, aiutarci anche a rendere un pochino più tranquille le varie cose. E comunque ci sta a parlare anche di bellezza, dai, insomma, poi tu lo sappiamo, tu la donna la fai bella, l'uomo lo fai bello. Quanto dedichi della tua vita al tuo lavoro? Boh, da quando sono nato adoro questo lavoro, quindi da piccolino ho detto che avrei fatto il chirurgo, quindi questo dice già tutto. Però posso dirti una cosa per collegarmi a quello che hai detto tu. Quando c'è stato il lockdown a marzo, aprile, maggio, poi io come tutti eravamo molto perplessi e ci siamo detti, è arrivato giugno, ormai l'estate è il periodo sbagliato, staremo a girarci pollici perché non faremo niente. In realtà non è andata così, abbiamo lavorato tutti tanto, ma quello che volevo dire non era questo. Volevo dire che questo significa una cosa, quanto la bellezza sia importante per una donna. quindi nonostante i tre mesi di lockdown, quando appena appena si sono aperte le porte, le donne e anche gli uomini hanno avuto l'assoluta necessità di rivedersi belli, di rivedersi tutti, non solo perché più ingrassati, a parte l'ingrassati, però vuol dire che l'estetica è un'attenzione componente. Ieri sentivo qualcuno dire, ma perché hanno chiuso i teatri, la musica? Beh, io credo che tutto possa aiutare le persone in momenti difficili e le cose belle come la bellezza, come la musica, come l'arte, forse non andrebbero mai bloccate, perché almeno l'umore e la morale delle persone. Anche perché Raul tutti si sono proprio adoperati a mettere in sicurezza le proprie strutture, dai parrucchieri ai centri medici a chiunque, quindi insomma bisogna salvare anche sotto l'aspetto economico la nostra Italia. Si deve, si deve. Però noi parliamo di bellezza adesso e soprattutto parliamo del naso, perché io so, tu sei il mago della liposuzione, tu sei bravissimo, tu sai usare il bisturi in maniera egregia, questo bisogna dirlo. Tu sei carina stasera. No, ma dai, ma è vero, lo sai, l'ho sempre detto. Però diciamoci la verità, andare a ritoccare il naso senza l'utilizzo del bisturi. Allora, devo dirti che è una tecnica che io non utilizzo da tantissimi anni perché inizialmente pensavo fosse quasi un'esasperazione, io detesto l'esasperazione della medicina estetica o della chirurgia, cioè adoro le persone molto naturali, molto belle così, quindi non ero molto convinto della cosa. Infatti quando ho cominciato sono rimasto spaventosamente sorpreso. Da una parte perché un bravo medico, medico estetico, chirurgo plastico, che conosce l'anatomia del naso, in realtà capisce che può fare tante cose. Ma io non mi aspettavo di riuscire, molto spesso io come molti altri, a risolvere per molti mesi dei difetti del naso in tempi non repentini, addirittura... Tempi immediati, immediati. Io ho foto di 3-4 minuti dopo, quindi se penso che psicologicamente... Io parto subito con una foto, così almeno sappiamo di... Ecco di che cosa parliamo. Allora, stiamo parlando di rinofiller. Sì, rinofiller. Allora, cominciamo a dire che rinofiller non è altro che una rinoplastica estetica, dove normalmente si utilizza del banale acido ialuronico. Dico banale perché è un prodotto utilizzato in medicina estetica tantissimo, non sono anche in altri campi, ortopedia e via dicendo. Per cui, in realtà, come vedi, nel modo più semplice possibile, bisogna semplicemente seguire quali sono le linee che mancano nel caso della signora, ma quasi tutti potremmo dire quasi le stesse cose. La presenza di un gibbo, per esempio. Infatti, qui vediamo un po' di gobetta, vediamo un po' di gobetta. Quindi tu con l'acido ialuronico sei intervenuto dove? Cioè, sia in alto che in basso? Cioè, tu sei intervenuto sia qui che qua? Allora, diciamo che tu puoi intervenire in 4-5 aree, che vuol dire la parte, vabbè, tolgo gli occhiali, del gibbo qui in alto, puoi agire sotto la columella, qua sotto, per sollevare verso l'alto la punta del naso, puoi in molti casi appuntire e anche un pochettino il naso accorrendo la punta. E molto spesso, quando abbiamo una deviazione del setto, quindi vediamo il naso che non è perfettamente dritto, e quindi è magari molto più convesso della parte, molto più concavo dall'altra, si può correggere la concavità rendendolo più dritto, più lineare possibile. Tu praticamente vai ad inserire dell'acido ialuronico, immagino? Esattamente, dell'acido ialuronico nelle parti mancanti. Nelle parti mancanti. Nelle parti mancanti, o per, nel caso della punta del naso, per proiettarlo verso l'altro. Allora... Resta inteso, che mi preme dire una cosa, l'acido ialuronico è un prodotto morbido, mentre il gibbo è duro, è un osso. Il setto è cartilagineo, quindi non sempre abbiamo il gold standard, cioè il massimo da un rinofile. Non è un intervento, comunque l'abbiamo detto. Non è un intervento chirurgico, però vedi... Mamma mia! Ragazzi, qui però è un risultato pazzesco, qui sembra veramente sia intervenuto il bisturi. Questo è subito immediato il risultato? Guardi, i risultati sono 5 minuti dopo, ma se vedi bene, in realtà la parte sotto... Ecco, torna a quella di prima, un secondo, ecco, brava. Se vedi, la punta sotto non è cambiata, lei aveva la punta in su e continua a averla in su e non ha modificato, invece dove c'era il gibbo ho tolto l'effetto del gibbo e l'ho portata in su. Però in questo caso anche la punta sembra più alta, è più bella anche la punta. Sì, ma è proprio veramente soltanto una sensazione leggerissima. delle volte bisogna agire pesantemente. Ecco, vedi, in questo caso è una bella ragazza dove in realtà che cosa ho fatto qui? Ho sollevato leggermente la punta, ok, si vede molto bene. C'è la parte sotto della colomella e ho tirato il naso verso l'alto. Poi ho anche dato un po' di puntina in modo da avere quel naso un pochettino alla francese e come vedi non sempre se mi ritorno in quella foto copro interamente il gibbo ma delle volte lo lascio leggermente per renderlo più naturale ancora. Bravissima, perché troppo rettilineo alla romana o troppo delle volte non è detto che sia giusto. Esatto. Direi che la grossa difficoltà dove sta? Che se tu ne metti dentro un po' più del dovuto poi non puoi tirarlo fuori. Quindi l'importanza è questa. Più o meno quante fiale per insomma quello che abbiamo visto qui per un risultato di questo tipo? Massimo massimo una non più di una ma una delle volte già tanto perché normalmente quando il paziente è con un naso abbastanza difficile ho avuto ultimamente una bellissima ragazza rumena con un naso veramente difficile un po' giù molto ondulato un po' storto e via dicendo allora mi sono permesso di dire che le avrei dato un risultato in due volte l'ho fatto venire una prima volta ho fatto mezza fiana poi ho aspettato una settimana che l'acido ialuronico sedimentasse nel modo corretto e poi così sei andato ad intervenire a livellare laddove c'era più bisogno ecco questo Raul l'ho visto prima devo dirti che qui hai superato te stesso ma no non ho superato te stesso no ma qui abbiamo sembra veramente no ascoltami qui parlavamo del quando un naso tende all'ingiù qui noi vediamo veramente un pre di un naso importante che veramente cade verso il basso invece abbiamo poi dopo un risultato non è caduto solo il naso è caduto anche il dottor Novelli adesso dove ah sapete ha ricevuto una telefonata hai ricevuto una telefonata Raul una telefonata eccomi l'ho rifiutata eccolo ci sei? non so come bloccare queste telefonate speriamo in me esatto vediamo tanto io sono qui no allora aspetta stavo vedendo questa foto del naso no mi sono persa di quella ragazza che aveva ecco di questa sì questa punta come l'hai lavorata? allora qui c'è stato veramente un grosso problema perché questa ragazza aveva la quadrangolare cioè il setto che spingeva fortemente in giù tanto è vero che questo è un risultato dell'anno scorso me lo ricordo molto bene abbiamo fatto questo intervento a novembre così lei si è potuta vedere e capire com'era il risultato finale ma io le ho spiegato che questo setto che andava così in giù avremmo veramente impazzito molto perché non si riusciva ad avere il nasino all'insù come in realtà lei desiderava per cui questo è il risultato di rino filler ma poi nel gennaio abbiamo fatto addirittura una rinoplastica perché lei era talmente entusiasta si è vista del risultato ovvio perfetto quindi potrebbe essere anche esatto potrebbe essere anche come un test sulle persone che magari hanno un po' di timore a dire poi però cambio vado a stravolgere quella che è la mia fisionomia tanto nel giro di quanto tempo si riassorbe la prima fiala allora concludendo quello che tu hai detto cioè che molto spesso viene usato come test perché ovviamente quando fai un intervento e fratturi limi modelli un osso poi non puoi più tornare indietro per cui delle volte può veramente valer la pena fare un test e far vedere un'ipotesi di risultato poi quanto dura questo questo acido aluronico quindi per me raccontare una piccolissima cosa 4-5 anni fa è venuta una simpaticissima signora della Val d'Aosta che aveva il naso molto sellato per un errore di una rinoplastica dove è stato tolto topo osso per cui all'incontrario ho messo l'acido aluronico per darle una forma più naturale e avevo spiegato che questo acido aluronico la prima volta può durare anche due o tre mesi perché deve assestarsi deve avere una certa creare una certa fibrosi ora non sto a dilungarmi dopo tre mesi questa signora mi ha chiamato arrabbiatissima dicendomi che le avevo preso i soldi che non era giusto fregare alle persone in questo modo perché non c'erano i risultati sì ma me la ricordo ma lasciami dire il perché io ho detto signora venga ma guardi che ne l'avevo spiegato ero molto dispiaciuto di questa realtà risultato finale qual è stato è venuta siamo diventati amici a tirarla breve ora sono passati cinque anni sai quanto dura un anno e mezzo a volta infatti mi adora e ogni volta arriva con i pasticcini da osta dicendo dottore le ho portate i pasticcini ecco questo per dire che normalmente la prima volta dura poco dura tre mesi tre mesi e mezzo ma pian pianino nel tempo va dai sette otto mesi all'anno fino all'estremo credo di addirittura un anno e mezzo però dopo tre mesi possiamo tornare da te a ritoccare il naso cioè non c'è una controindicazione al sottoporsi più volte al rinofiller assolutamente no l'acido neuronico è un prodotto assolutamente innocuo se maneggiato nel modo giusto con tutta la dovuta sterilità che non è per carità di dio quella dell'intervento chirurgico però guanti sterili sostanze come si deve insomma le solite pranzi che qualunque collega sa utilizzare con maestria e a quel punto tu puoi tranquillamente anzi delle volte io tiro su la punta un poco e poi ti arrivano dopo un mese entusiastici no no dottore la voglio un po' la rivoglio la rivoglio la rivoglio i cerchi guarda Raul adesso questi tu li conosci perché sono tutti sono tutti lavori tuoi però devo dirti davvero complimenti perché con l'acido ialuronico che qui voglio ricordarlo sottolineare che non c'è l'utilizzo del bisturi non parliamo di chirurgia ma parliamo di medicina estetica e il risultato va bene ne abbiamo alcuni più evidenti però esattamente esattamente cioè la situazione del gibbo la ti ho perso la voce Elisa come mi hai persa aspetta sono qui sono qua ti vedo ma non ti sento non mi senti più Eva tu l'avrai disattivato prova ci sono ti vedo benissimo ma non ti sento io ti vedo io ti vedo e ti sento io ti vedo e ti sento e penso tu mi senti bene in cuffia perfetto io non ti sento completamente allora prova a rientrare metti giù e rientra così almeno dai vediamo di vedere assieme anche le altre foto metti giù adesso mettiamo giù lo io lo vediamo se riesco perché vi stavo dicendo aspetta che ci tengo ci tengo a farvi vedere esattamente rientra Raul vai e rientra metti giù bellissima sta cosa metti giù e poi rientri adesso glielo diciamo glielo scriviamo allora a Raul gli scriviamo rientra rientra ok allora cosa che vi stavo dicendo no per me la cosa più la cosa più incredibile è quella di poter veramente avere dei risultati come quelli che abbiamo visto esclusivamente utilizzando l'acido ialuronico questo è tanta roba perché viceversa mettersi comunque decidere di andare sotto ai ferri comunque dire vado a ritoccarmi il naso qualche volta uno può anche aver paura io quantomeno ne avrei e pensate adesso se arriva Raul glielo dico anche ecco ecco stavo raccontando Raul tu pensi che io fin da piccolina avevo il complesso del naso a patata e continuavo a dire voglio rifarmi il naso voglio rifarmi il naso ogni volta che dicevo a qualcuno a qualche chirurgo perché tu sai insomma ne conosco di chirurghi e tu ti dicevo no il tuo naso va bene il tuo naso va bene così ti rifaccio le orecchie ti rifaccio il seno il seno poi l'ho rifatto le orecchie le ho tenute però il naso non me l'hanno mai toccato cioè il naso però secondo me il naso a patata con l'acido dell'uronico si può intervenire anche su un naso come il mio quindi eh no perché lo vale di aumentare allora io ti conosco benissimo da tanti anni ma ti confesso che non sono stato così attento al tuo famoso naso a patata che non è che non è così a patata però sì diciamo che si può aumentare leggermente la punta rendere un pochettino meno a pallina un pochettino più ovalare questo si può fare ma la verità è che uno dei problemi del naso a patata è legato a delle cartilagini che si chiamano cartilagini alari che devono essere chirurgicamente modellate ridotte di dimensione e allora il naso ti viene fuori a punta quindi probabilmente l'indicazione migliore è quella chirurgica ok però vabbè adesso stiamo parlando di rinofile quindi di non chirurgico ma un naso tipo il mio esattamente quindi che non avrebbe che non ho l'osso insomma non avrebbe proprio bisogno di essere presa martellate però ci sono tante ragazze tante signore che hanno anche loro il problema di un naso un po' importante come si interviene tu parlavi di cartilagino è proprio un intervento vero e proprio oppure è un pochino rispetto a una rinoplastica allora premesso che la rinoplastica è un intervento totalmente indolore molto meno indolore di una liposuzione di altri interventi premesso questo io ti dico che dal mio punto di vista quando il naso è patata l'unica possibilità vera reale è quella di asportare la cartilagine perché così siamo sicuri che il risultato è definitivo sull'acido ialuronico parlo contro i miei interessi in qualche caso può valerle la pena ma in molti altri assolutamente non ne vale la pena senza dire che delle volte addirittura la pelle del naso è più spessa quindi appare più grosso anche per un problema di spessimento della cute quindi in quel caso manca la chirurgia alla sua funzione neanche la chirurgia e allora noi però vediamo che sul invece su un discorso esatto soprattutto su un profilo dove mancano effettivamente l'armonia in questo caso tu riesci perfettamente però dicevamo anche per gli uomini cioè perché adesso qui è l'unica foto che ho al maschile però ecco su questa vorrei che tu ci spendessi qualche parola allora la prima parola è che i maschietti sono vergognosi seconda cosa ti danno raramente l'autorizzazione a mettere le loro foto e terzo quando fanno le cose lo dicono molto meno delle donne quindi abbiamo anche noi una certa difficoltà tecnica a avere foto far filmare prima di questa diretta io te parlavamo del fatto che io mi scordo sempre di film di fotografare e filmare prenditi fai le foto insomma oggi poi soprattutto la gente attenta vuole vedere prima di sottoporsi vuole capire vuole vedere insomma ci sta esattamente per cui la verità è che ci sono la serie di tutti i giovani abituati ai social che se chiedi loro di fare delle foto di fare il filmatino tutte ti dicono di sì sono tutte contenti non ne frega niente in realtà poi superato una certa età tutti hanno ancora l'idea della privacy e che non vogliono dire niente però senti rispetto a questo naso è diventato veramente meraviglioso ma qui anche la narizia è cambiata assolutamente sì e ti dico di più che secondo me fare il naso a un uomo è estremamente difficile ti spiego il perché a una donna quando hai fatto il nasino all'insù carino un po' da ragazzina ye ye va sempre bene quindi non è non è il problema ma se fai un naso così è un uomo diventa uno schifo molto meglio bravissima quindi in realtà la bellezza di un uomo non è poi così legata al difetto del naso per cui l'uomo è bello perché noi siamo belli giusto? voi avete questa fortuna intrinseca proprio dello sprigionare bellezza anche se magari avete un naso non propriamente perfetto diciamo che fortunatamente per noi le donne non cercano la bellezza nell'uomo sennò saremmo rovinati però devo dire che qui tu hai reso veramente un naso che prima di bello cioè non era bellissimo ecco è diventato molto armonioso certo è diventato molto armonioso perché un naso maschile meno lo tocchi meglio è tanto è vero che come vedete non l'ho assolutamente tirato in su l'ho lasciato molto lineare molto tipo romano quindi molto secco proprio perché nell'uomo un certo tipo di bellezza esasperata diventa troppo diventa di contrario sono d'accordo Raul e anche in questo caso una fiala sola? assolutamente una sola ma forse addirittura se mi ricordo tre quarti neanche una perché sono intervenuto solo nella parte qua sotto per cui veramente poca poca roba ok uno volesse dire mi piace lo voglio fare anch'io come si deve muovere come si deve comportare sprigionare bellezza esatto lui sprigiona la bellezza hai visto prendere l'appuntamento no appunto basta telefonare uno prende l'appuntamento e lo fai qui non non occorre fare tampone altre cose no queste sono punture normalissime almeno che il nostro caro ministro ci venga a dire qualcos'altro nel futuro no dai speriamo di no però l'unica cosa che ci tengo a dire è che ci sono persone che sono molto sensibili per cui in alcuni casi faccio una piccolissima punturina di anestetico locale proprio per evitare il dolore del trattamento che dolore non è però parlando giusto degli uomini normalmente voi avete una soglia del dolore pari al nulla esatto a meno del nulla cioè le donne si fanno concedetemi sto termine quasi violentare per la bellezza e stanno zitte non parlano magari vengono giù le lacrime e io faccio sempre la solita battuta che le mie ragazze ridono finalmente anche oggi ho fatto piangere una donna eh ma si deve fare piangere perché dopo loro sono contente insomma esatto no diciamo che noi donne abbiamo una soglia del dolore in linea di massima sicuramente più alta di quella del dolore che sono diverse io dopo che ho partorito guarda ho detto non ci sarà dolore più forte in effetti così è stato parliamo di un'altra tecnica Raul questa è una cosa assolutamente nuova me ne hai parlato prima spiegami che cos'è ma tecnicamente se molte persone che hanno il naso che guarda verso il basso se voi fate caso quando ridono il naso scende ancora di più scende ancora di più perché c'è un muscolino qua sotto la culumella che quando ridi si tira si contrae e fa scendere leggermente di più il naso questo qua non è altro che un frenulo un frenulo labiale che ha tutto un suo significato lo vedete nella slide di sinistra anche se non è vicinissima ma basta in realtà passare la lingua adesso penso che chiunque stia guardando questo video passate la lingua e trovate il frenulo esatto e molto spesso si vede che quando le persone tendono ad avere sempre questo naso che va in giù a ogni risata hanno un frenulo labiale abbastanza grosso abbastanza così con un muscolo un po' grossino per cui al di fuori che questa tecnica si utilizza anche in odontologia ma non mi dilungo perché non è oggetto del chiacchierato di oggi per cui in realtà con una sola piccola punturina di anestetico locale fatto come se quando si va dal dentista per una caria quindi roba da poco con un bisturi o con una fibra laser si stacca questo frenulo un po' concedimi la battuta come nel caso della circoncisione è più o meno lo stesso infatti ti avrei chiesto però non comporta non ci sono effetti collaterali perché noi abbiamo in natura questo frenulo e possiamo tagliarlo bisogna chiedere al buon Dio allora in realtà quando è in forma naturale non incide assolutamente su questo difetto quando tende a essere un po' più grosso crea questo tipo di piccolo problemino però in quel caso allora si può si può incidere cioè lo tagli puoi darle un punto delle volte puoi anche non dare nessun punto perché le gengive io in questo caso nella slide di destra vedete che c'è un punto dato è quello nero che si vede è un punto che è servito per chiudere la gengiva ma grazie al cielo le mucose come la gengiva guariscono molto velocemente e i dentisti lo sanno si rigenera con anche il rischio di infezione non bassa bassissima perché la bocca è una di quelle però dopo praticamente tu torni ad avere un sorriso dove non ti tira più giù il naso la tua punta del naso rimane là dove deve stare allora diciamo che in linea di massima non esasperiamo questo concetto però aiuta tantissimo a evitare questo abbassamento della punta del naso verso il basso che delle volte è veramente poco piacevole guarda bellissimo infatti anche Deborah ci dice grazie dottore perché lei guida la bellezza naturale e non alla trasfigurazione e questo grazie Deborah per averlo sottolineato perché è anche il mio pensiero insomma riuscire comunque facciamo una carrellata veloce soltanto con l'acido ialuronico perché qui stiamo parlando di questo qui non parliamo di bisturi e non parliamo comunque di trasformazione trasfigurazione di una persona Raul è stato bellissimo questo escursus fatto nel viaggio della bellezza del naso va bene io mi tengo il mio naso a patata però so che per chi invece allora cambiassi idea cambiassi idea insomma vediamo il naso non è doloroso fare il naso mi dicevi no no assolutamente no è uno di quegli interventi dove dolore sembrerebbe rincontrare nell'immaginario collettivo di chi deve farlo l'idea di modellare un osso usare una lima esatto grandi dolori però invece no ma che bello meno male assolutamente no non è da vero va bene Raul ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e tanti baci a tutti buona serata a tutti grazie a tutti voi grazie di avermi ascoltato di nuovo buonasera ciao 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 ciao